Parola di Papa Voitiva Non c'è pace senza giustizia e non c'è giustizia senza perdono La pace è un cantiere aperto a tutti e non solo agli specialisti, ai sapienti, agli strateghi Addio a Giovanni Paolo II Addio al Papa che aveva imparato la pace tenendo tra le dita il rosario nella Polonia della sua giovinezza quando erano pane quotidiano i pestaggi per strada da parte delle SS o le deportazioni ad Auschwitz o nei campi di lavoro in Germania Fu lui stesso a dire in una delle primissime udienze coi diplomatici La storia della mia patria d'origine mi ha insegnato il rispetto dei valori specifici di ogni nazione di ogni popolo delle sue tradizioni e dei suoi diritti al cospetto di altri popoli Come cristiano e ancora di più come Papa do e darò sempre testimonianza dell'universalità dell'amore mostrando a tutti in particolare a quelli che sono sottoposti a dure prove la medesima benevolenza Alla prossima Alla prossima Alla prossima Grazie a tutti.